Oggi siamo con l'assessore ai lavori pubblici Giorgio Di Giovan Giacomo. Assessore, quali sono i lavori che si concluderanno nel 2012 e gli eventuali lavori che verranno iniziati? Sicuramente ci sono diversi lavori che inizieranno, stanno in procinto di concludersi e quant'altro. Il lavoro più importante riguarda Via Po, sicuramente terminerà entro il 2012, anzi sicuramente molto prima, che è uno dei lavori più importanti che abbiamo in essere. Siamo in fase avanzata, pensiamo che nel mese di giugno, cioè prima delle strade, di concludere quel tipo di lavoro. Un intervento importante che permetterà di risolvere il problema, l'unico problema che rimane per quanto riguarda il traffico a Teramo. Per quanto riguarda i lavori che dovranno iniziare, sicuramente inizierà la variante di Villa Mosca, che è il proseguo della strada che dall'Ina, sempre dalla zona dove stiamo realizzando la rotonda Via Po, che permetterà il collegamento dell'uscita della superstrada con Villa Mosca, che è un'altra opera importante a livello sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista economico, perché riguarda un intervento di circa 3 milioni e 200 mila euro, dunque un lavoro importante che permetterà di collegare tutta la zona nord di Teramo con la superstrada. Dunque questo è uno dei due lavori più importanti che abbiamo in essere sul territorio comunale. Ci sono altri diversi lavori importanti, sicuramente che vedranno l'inizio nel 2012, speriamo anche la fine oppure a cavallo fra il 2012 e il 2013, che sarebbero tutto il sistema di rotonde, il finanziamento di un milione e mezzo di euro che abbiamo avuto dalla regione, che prevede alcune rotonde a Scapriano, tutto sull'asse Scapriano fino alla zona di Cardecchio. Dunque questi sono lavori sicuramente che partiranno prima dell'estate e se non ci sono intoppi, perché nei lavori pubblici possono essere qualsiasi tipo di intoppo, sia dal punto di vista dell'esproprio e quant'altro, però cercheremo sicuramente di completarli entro la fine del 2012 o a cavallo all'inizio del 2013. Dunque questi sono i lavori più importanti che riguardano la viabilità. Ce ne sono altri, quello è un altro importante che sarà la prossima settimana, il 17, il ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda il secondo lotto dell'8.0, che è un'opera strategica che ci permetterà anche di rifare alcune valutazioni per quanto riguarda il traffico a termine, il discorso di circonvaluazione che in questi giorni è sulla stampa, che abbiamo preso alcune decisioni per quanto riguarda la circonvaluazione al senso unico, dunque l'apertura dell'8.0, che se tutto va bene la prossima settimana ripartiranno i lavori, sicuramente entro il 2012 sarà concluso. Questo permetterà di tutto il traffico della Cona, di Montori, di bypassare Termo con notevoli vantaggi sia dal punto di vista della qualità dell'aria che del traffico della città di Termo. Cambierà anche qualche senso di marcia in città? Sì, se il sindaco o alcuni della maggioranza erano d'accordo di fare delle modifiche prima dell'apertura dell'8.0, io sono un pochino scettico, vorrei aspettare l'apertura del secondo lotto dell'8.0 per fare alcune modifiche sostanziali per quanto riguarda il traffico a termine, soprattutto per quanto riguarda le circonvaluazioni e tutto quello che comprende tutte le vie che si innestano con la circonvaluazione, perché modificando la circonvaluazione al senso unico bisogna rivedere tutto il piano di sistema di senso unico a terra, dunque questo sarà un intervento importante che rivoluzionerà la circolazione a Termo. Progettualmente quali sono i tempi? Dunque, se lo facciamo dopo l'apertura dell'8.0, noi programmiamo, se sappiamo che l'8.0 è terminato alla fine dell'anno, già ci programmiamo per poi fare l'adempimento le fasi successive del circonvaluazione. Dunque, noi stiamo già con gli uffici, abbiamo dato l'inbut ieri per quanto riguarda la situazione dei parcheggi gendrostorici, che è un altro intervento che interessa moltissimo la città, sistema di tutti i parcheggi a pagamento e per il risiede gendrostorico, è la rivoluzione che dicevo poco anzi per quanto riguarda la circonvaluazione. Dunque, noi appena dopo l'apertura dell'8.0 già saremo pronti per attuare questo sistema importante che riguarda tutta la circonvaluazione di Teramo. Nello specifico, quali sono gli interventi che realizzerete con i fondi che già avete ottenuto? Sì, questi che abbiamo detto sono interventi che riguardano la viabilità, abbiamo oltre 10 milioni di euro, sono lavori che, soprattutto derivanti dai fondi PIS che riguardano tutte le opere infrastrutturali sia nei quartieri che nelle frazioni. Degli 8 milioni e mezzo che abbiamo avuto qualche mese fa dalla regione, da una parte verrà spesa nel quartiere di Collaterrato dove verranno realizzate una scuola elementare e un sistema di piazze e di percorsi pedonali, poi un centro sportivo a Colleparco e alcune opere che riguardano la Gammarana e la Cona. Mentre per le frazioni verranno investite circa 2 milioni di euro che andremo praticamente a coprire quelle richieste che abbiamo avuto nelle regioni di Tirenanti che prevedono una serie di interventi alle frazioni di poco conto, però significativi per ogni singola frazione. Dunque, in quest'anno, sicuramente nel 2022, ci spenderemo questi 10 milioni di euro che ci permetteranno di dare una risposta importante soprattutto alle frazioni.